giusta via. Parliamo di pappagalli, si inaugura oggi a Trento la seconda edizione di Mondi Animali Festival, la manifestazione che vedrà ricercatori e esperti di scontare di diritti e intelligenza reale, ospite d'eccezione la dottoressa Irene Pepperberg, chi è, direte voi, semplice a dirsi, ambasciatece delle sorprendenti abilità cognitive di uccelli, chi lo ricorda Alex, il famoso pappagallo che sapeva contare come un bambino di 4 anni, scomparso più anni fa con commozioni del pubblico e le prime faggine dei giornali, quando l'etologia